Zidane, lato corto dell'area di rigore contro Couto, sinistro che impegna Ballotte, ottima opportunità, grande azione personale di Zidane per... Espulso Ferrara al ventesimo. È stata un'ingenuità purtroppo condizionata anche da quella che è stata un po' la prima munizione. A centro era per Simone, colpe di destra, gol! Lazio in vantaggio con Simeone! L'argentino Simeone esattamente al ventunesimo, ha trasformato un gol, un assist perfetto. Juventus a 0, Lazio a 1. Per spevere Ferrara è nato subito il vantaggio della Lazio. La Lazio batte la Juventus per 1 a 0 e si porta a soli tre punti dalla capolista. Siccome vedo tutti i trionfanti, guardate la classifica, ho visto che eravamo sempre primi noi, quasi quasi ero preoccupato che ci fosse subito il sorpasso. A me andava bene prima, adesso va in mano, via città, questo è il calcio.